È una bella iniziativa, una sinergia tra la Regione Abruzzo, l'Assessorato della Sanità, la ASL di Pescara e i Rotari di Pescara Ovest. È una conferma della collaborazione che c'era e che c'è oggi e che ci sarà ancora. Splendida collaborazione, quindi andiamo avanti con questo tipo di attività e di iniziative. Sono iniziative importanti che vanno nella direzione ovviamente di essere al fianco della cittadinanza. Assolutamente sì, abbiamo comunque bisogno di questi sostegni e questa è la classica dimostrazione di quello che si potrebbe fare. In questo anno rotariano il nostro punto di forza è il sostegno ai bisogni della collettività e quindi abbiamo puntato sulla prevenzione e sul sostegno alle fasce deboli, ai soggetti svantaggiati, con dei service che abbiamo messo in campo e realizzato già a partire dal mese di ottobre. Infatti la prevenzione oculistica in collaborazione con l'ospedale civile di Pescara, questo è uno sguardo al coronavirus, è uno dei nostri primi service. Abbiamo affisso manifesti per la città e anche distribuito nelle scuole, locandine, brochure, insomma abbiamo fatto una bella campagna. È una soluzione, la nostra è un contributo per ridurre la diffusione di questo problema. Insieme ai vaccini, a tutte le disposizioni che il governo ha emanato, sicuramente la nostra è una delle più efficienti perché? Perché permette di interrompere il contagio e soprattutto previene il contagio. Ecco, per esempio qua stiamo parlando di un tunnel che è all'ingresso della struttura. N persone giornalmente entrano in queste strutture, sono sicuramente, viene verificata assolutamente la temperatura e vengono igienizzate. Quindi anche il contatto con i dottori, in questo caso la visita negli ambulatori, la prenotazione di una prestazione avviene con maggior sicurezza. Quindi sia gli operatori che i clienti sono tutti più tranquilli. È un concetto molto semplice.